benvenuti benvenuti al sottotetto caffè episodio 7 messo anche un cappello in onore del nostro ospite di questa puntata poi scopriete il perché allora come come sempre immancabile il mio amico da milano stefano iuso ciao ciao fabrizio amici da casa ciao a tutti io avrei voluto mettere un cappello anche io ma devo ammettere che da qualche anno i cappelli per via di capelli sono le cuffie non si vede ma la situazione è un po croce è il cappello naturale il cappello naturale ti farò farò all'ospite un tanto di cappello così virtuale e niente credi che cappello che c'ho vedi alla michael jackson con gli strassi guarda degli strassi d'onore faccio anche una botta guarda se mi riesce si vede una botta un po la michael jackson fa oh eh me lo tengo fino al prossimo ospite o per un attimo pensavo fossi michael jackson proprio vabbè diciamo il colorito ci sta insomma ci siamo guardi ma con quel cappello impari anche i passi subito il passo di michael jackson lo sai fare ma moonwalker ce l'ho insegnato io non è che non per niente sottotetto caffè il nuovo format della sottotetto records per parlare di musica incontrare amici artisti della quarantena song challenge 1 adesso abbiamo in corsa la quarantena song challenge 2 e poi insomma diremo anche i riferimenti link dove trovarlo per giocare con noi e fare musica ma questo programma questo format sottotetto caffè è più che altro per di trovarci in musica e questo oggi in questo questo episodio 7 questa puntata sottotetto caffè abbiamo un carissimo amico che fa parte di noi della sottotetto records quindi il nostro alfiere ma lo voglio chiamare alla mia maniera stefano lo chiamo un po alla vintage perché lui poi è diciamo nel sud quindi milano lazio andiamo fino in puglia e lo chiamo lo chiamo stefano chiamare al numero fa il numero faccio anche il numero così vediamo un po faccio vedere giochiamo vediamo se risponde vediamo si sente il numero che bella la rotella vediamo se risponde giro puntina ci sei pronto pronto ciao fabrizio ti sento forte e chiaro mi senti mi senti mi senti tutto a posto tutto bene no ti sento ti sento si vedo che sei abbastanza deficiente anche io si 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 quindi sono ben attrezzato ho visto ho anche io la cornetta quindi ti ho preso proprio in tassagna hai fatto proprio mi sono messo anche il cappello in tuo onore vedi grande ragazzi ragazzi oggi ho tagliato i capelli tra l'altro eh volevo far vedere a tutti gli amici a casa che mi sono prendiamo il cappello lanciamolo con il jackson ok allora benvenuto giro puntina domenico de sandris grazie giro puntina da taranto amico fratello alfiere da sottotetto records stefano vuoi insultarlo un po' tu stefano io devo dire qualcosa di negativo infatti no ciao sono contento di avere di fare questa puntata con il buon domenico e col buon scusate è abituato dall'interno e giro puntina qua per io sono abituato a chiamarlo buon domenico ma è una cosa nostra degli interni sottotetto records il buon giro puntina vedi buon ci sta anche davanti al giro puntina comunque tutto sommato il buon giro puntina che oggi abbiamo qua in veste di artista in veste di artista perché anche lui è partecipato alla quarantena song challenge 1 e come gli altri partecipanti della quarantena song challenge 1 allora facciamo quattro chiacchiere sul brano e su come è venuto fuori beh come è venuto a conoscenza della challenge è evidente però dai cacchieriamo un po' sulla canzone sono curioso ma vogliamo chiacchierare per forza stefano voglia sentirla prima? voglia farla sentire? vogliamo intervistarlo per forza ah così possiamo anche chiudere ma che cosa c'è chiudiamo basta così basta così è finita la puntata ragazzi eh basta è finita è stato un piacere averti con noi giuntina ciao saluti a casa saluti a casa ciao ragazzi ciao 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 giro puntina torniamo un attimo seri dai torniamo seri perché insomma diciamo siamo tutti amici quindi insomma ci vendiamo anche un po' in giro simpaticamente però insomma dai sotto detto caffè giro puntina per la quarantena song challenge 1 anche 2 e poi vedremo anche perché una piccola sorpresa per stefano allora quarantena song challenge 1 che cosa hai fatto? allora per la prima quarantena song challenge ho lavorato con il buon Fabrizio Sparta e insieme abbiamo scritto questo testo che è in questi giorni strani che prende proprio il titolo appunto dai giorni che abbiamo vissuto da tutto quello che tutti hanno vissuto e insomma questa quarantena questi giorni particolari e strani appunto passati in casa passati appunto come dice la canzone sui divani sdraiati sui divani e i pensieri tra le mani per riprendere appunto l'inizio proprio della canzone è stata una canzone scritta grazie a dei frammenti melodici in tonalità di la minore grazie a Stefano grazie a Renzo Aretta che sono gli altri componenti insomma della sottotetto record e da lì è nata la musica dopodiché con Fabrizio è stato anche facile lavorare perché c'è una ottima sintonia una buona sintonia quindi abbiamo scritto questo testo di getto così le parole sono venute spontanee sentendo la musica e quindi ci abbiamo lavorato poi Stefano ho mandato insomma la prima bozza del pezzo al buon Stefano e io ho detto a Stefano ho detto guarda vorrei qualcosa di un sound fresco sai un sound che si rifaccia agli anni 80 agli anni 90 questi pad questi suoni un pochettino elettronici e Stefano praticamente con le sue manine miracolose ha compiuto il miracolo perché poi ha scritto tutto l'arrangiamento ed è nata appunto è nato il pezzo dal chitarra e voce si è trasformato poi in quello che potete ascoltare su YouTube e quindi potete andare a sentire Giro Puntina in questi giorni strani trovate tutto tutto lì e quindi capirete di che cosa stiamo parlando perché è stato fatto anche un video giusto? sì è stato fatto anche un video dai ragazzi della PDM Produzioni da Leo Picchieri e Jacopo Dimitri che ringrazio che sono questi due ragazzi che hanno collaborato anche con diversi gruppi italiani tra l'altro loro hanno ricevuto diverse menzioni speciali su Rolling Stones Italia e sono dei ragazzi che ormai mi accompagnano da tempo ormai da quando sono uscito edito con la Sottotetto con il primo EP è semplice e quindi loro lavorano con me da parecchio tempo sono bravissimi ragazzi e si sono anche dati da fare per questo videoclip particolare girato totalmente in casa poi alla PDM sul divano vabbè ovviamente perché ricordiamo che Giro Puntina è con noi insomma non dico da sempre però insomma fa parte della Sottotetto Records e con lui abbiamo pubblicato nella Sottotetto Records l'EP è semplice ma soprattutto Giro Puntina ha anche un bellissimo divano a casa è un bellissimo divano rosso che vogliamo vedere nel video eh Stefano facciamo un 30 secondi del video ma facciamo un 30 secondi del video e niente ok facciamo 30 secondi del video aspettate che devo fare una sì sì cercalo nel frattempo che lo cerchi allora poi ovviamente vabbè Stefano Domenico senza che andiamo adesso senza essere autoreferenziali perché insomma la canzone l'abbiamo scritta noi pensava anche neanche facciamo scoprire a chi vede il video chi andrà poi a ascoltare la canzone diciamo cosa volevamo dire io e te nel testo insomma quindi lo scopriranno sentendo e vedendo il video sì e poi andiamo avanti così diremo anche le altre cose che stiamo facendo allora quindi al sottotetto caffè il video di in questi giorni strani di Giro Puntina adesso parte sottotetto non è corso in questi giorni strani sdraiati sui divani e pensieri tra le mani è un'emozione parla spesa ma dai non parlo pesa è la distanza che ci frega hai paura anche tu io ancora non lo so aspetterò domani ricomincerò da me ricomincerò da te qui abbraccio solo aria ma ti voglio dire che ritorneremo a respirare a distinguere e capire che non serve più morire nel silenzio che ti abbatte ma ti spinge a progredire in un giorno in più che passa e un giorno in più in tasca e riuscire finalmente a dire tutto bene andrà tutto bene e questo era il video in questi giorni strani di Giro Puntina nel video ho fatto anche la doccia tra l'altro volevo fare i complimenti i complimenti per i pettorali il fisico di roll insomma che hai mostrato ma più che altro su quello devo fare i complimenti sulla scelta delle maioliche del bagno veramente molto belle Stefano Stolfo ha fatto un arrangiamento bellissimo elettropop che ha dato corpo e vita alla canzone ammettiamo c'era dell'ottimo su cui lavorare i clipi erano molto belli quindi diventa più facile quando la canzone sotto c'è quindi è stato molto divertente io ho la capacità di dimenticare tutto quindi me l'ero già dimenticato quindi è stato mi piaceva ascoltarlo mi piaceva moltissimo sì Stefano ho detto il Dori è il Dori della ricerca di Nemo della sottodetto Request lui si scorda anche adesso che sta facendo la puntata già si è scordato che sta facendo il sottodetto caffè è vero ragazzi posso confermare posso confermare posso confermare infatti quando quando parliamo ogni tanto io dico Stefano ma veramente ne avevamo ah ok ok va bene poi ho fatto anche diciamo come al solito Stefano mi ha fatto il dispetto che lui nel diciamo nel video ha messo il cuscino della sua 500 che sa che io amo le 500 storiche e l'ha messo apposta guarda ho messo anche il video della mia 500 nel cuscino sì no ma ho visto la serie di ricerca di dettagli la tazza di Spider-Man anche ho visto attenzione ragazzi attenzione quella ovviamente ovviamente cultura nerd io faccio vedere tra l'altro l'ultimo numero di Spider-Man che colleziono tra l'altro ne ho 745 a casa e questo è il 745 attenzione mamma è un capitale è un capitale tienite le strette mi raccomando ma sì ma sì ma è stato sempre con me il mio amico Spider-Man di quartiere è stato sempre con me cioè sono cresciuto con lui quindi è dal 1990 che lo colleziono adesso siamo nel 2020 quindi sono passati 30 anni ragazzi io spero che mi rilasci in eredità insomma questa collezione di Spider-Man che donerò al mio figlio ma certo Fabri certo vai dal notaio insomma va bene va bene scrivo scrivo scriviamo battute a parte battute a parte allora cercate in questi giorni strani di Gillo Puntina su YouTube per vedere il video su Digita Store sulla release sotto detto record volume 1 su tutti Digita Store poi ci sono anche le altre canzoni della quarantena social manager 1 della sotto detto records e senza insomma adesso andare a dire il significato della canzone lo scopriranno poi chi andrà ad ascoltare perché noi stiamo andando avanti Stefano noi stiamo andando avanti lo sai se ti guardi indietro niente rimani fermo quindi bisogna guardare avanti sempre avanti e noi dove siamo adesso abbiamo fatto la challenge 1 l'abbiamo parlato in tutti questi episodi ma adesso siamo in piena quarantena song challenge 2 e quindi la quarantena in realtà di per sé è finita da un paio di giorni però noi continuiamo a portare avanti non a caso il tema della quarantena song challenge 2 è si chiama si intitola insomma la prima cosa da fare sostanzialmente la prima cosa da fare è sottinteso quando la quarantena finisce adesso chissà se in effetti io questa canzone qua che sto per ascoltare non l'ho ancora sentita mi hanno detto dalla regia che mi vogliono presentare già la canzone della quarantena song challenge 2 di giro puntina scritta di nuovo con Fabrizio Sparta quindi ma sì anche perché Stefano allora il tema come giustamente è la prima cosa da fare post quarantena la fase 2 e ci siamo perché da qualche giorno stiamo in fase 2 stanno riuscendo tutti l'Italia sta ripartendo quindi già da adesso tutti stanno un po' facendo realizzando la loro prima cosa da fare magari non in totale perché non si può magari andare al mare quindi voi di Milano se la vostra prima cosa da fare è andare al mare per adesso non la potete fare però ci sono tantissime altre cose da fare come prima cosa da fare noi insomma l'abbiamo già è molto tra le righe in questa canzone che ha preso nel paniere più che altro la tonalità ma facciamo dire la giro puntina eh sì il tema è sempre la prima cosa da fare con Fabrizio abbiamo immaginato questa scena tra tra un ragazzo e una ragazza che ovviamente non si vedono da un sacco di tempo e e quindi si lasciano trasportare dalla passione dall'amore no? dalla nella loro prima voglia la prima cosa da fare che vorrebbero tra tutti i fidanzati che non si sono visti insomma per due mesi quindi riprendendo dal paniere dal paniere della quarantena Sound Challenge 2 la tonalità di fa maggiore facciamo ascoltare a questo punto a Stefano Iuso la nostra demo la nostra demo in anteprima assoluta mondiale del tutto il globo terraquio la canzone che si chiama non ho detto per niente apposta il globo terraquio perché il titolo della canzone è il pesce rosso ragazzi il pesce rosso tutto live tutto live in anteprima l'inedito per Stefano Iuso perché adesso si sta ascoltando dal vivo giro puntina con il pesce rosso prego manca adesso le parole mi si bloccano i pensieri cerco il filo del discorso attraverso i tuoi occhi neri ma è facile perdersi c'è che quando tu sei qui mandi ogni cosa in aria i miei piani i miei progetti la mia vita quotidiana ed è bello perdersi la tua pelle è così scura come terra da scoprire e non ieri confine tra l'istinto e la ragione ruota intorno alla passione come un pianeta il suo satellite e il tempo tace se tu sei qui non trovo pace nel perderti non è normale pensarti così e se mi basta poco l'amore è come un gioco l'amore è come un gioco io non penso quando amo ma amo senza pensare siamo come due pianeti che rimangono sospesi ed è bello perdersi ma quando tu sei qui non posso più aspettare ed è come un pesce rosso che si tuffa in mezzo al mare ed è bello perdersi tu distesa sul divano senza dire una parola muovi piano la tua mano anche sotto la lenzuola e ubriachiamo questa notte di passione e di complicità e il tempo e il tempo tace se tu sei qui non trovo pace nel perderti non è normale pensarti così così e se mi basta poco l'amore è come un gioco 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 puntina grazie noi non ci battiamo le mani perché insomma sarebbe sarebbe inutile lasciamo la parola a Stefano che dirà sicuramente che è una cagata bassissima sì sì sicuramente allora bravi ragazzi e che sto giro avete fatto un bel brano maledetti io non ho ancora cominciato bravi bravi no perché gli amici a casa devono capire che c'è anche noi l'abbiamo fatta come gioco così però un pochettino di sfide all'interno c'è perché se uno fa un video figo l'altro no cacchia adesso devo farlo anch'io più figo e via così quindi hanno già finito hanno fatto un'ottima canzone dannazione bravi ragazzi mi è piaciuta mi è piaciuta molto ti è piaciuta meno male adesso aspettiamo le tue sapienti mani e conoscenze per fare un arrangiamento investito alla canzone sì 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 a sto giro penso che come al solito potrebbero uscire delle vocine no allora no allora Stefano io voglio il tuo basso il tuo magico basso voglio basso sì sì il basso molto volentieri ci sta bene già mi immagino un suono bello caldo qualcosa cordelisce sì sì ci divertiamo e poi ti voglio Stefano ti voglio adesso mettere un vestito a un pesce rosso insomma ce ne vuole perché è anche particolare che scivola via bene bene no sarà divertente e quindi gli amici a casa dovranno continuare a seguirci sono curiosi di vedere come proseguirà la queste vicissitudini sonore perché alla fine state vedendo come costruiamo le cose di fatto perché adesso io ho sentito per la prima volta adesso questo brano tra una settimana dieci giorni insomma probabilmente sarà arrangiato anche e quindi in qualche modo ve lo faremo sentire hai visto che bello Stefano stiamo facendo vedere involontariamente anche un po' non proprio agli addetti ai lavori ai musicisti che lo fanno insomma di prassi da sempre ma anche insomma chi ci segue chi ci ascolta che non è prettamente un musicista ma gli piace la musica stiamo anche facendo vedere un po' non dico come nasce una canzone ma guarda ma come è la costruzione di una canzone e lo stiamo facendo involontariamente in diretta cioè nasce la canzone testa e voce tra due più artisti poi la facciamo sentire come è successo adesso a te che sei l'arrangiatore il produttore che gli farà l'arrangiamento il vestito e magari ecco come stava succedendo prima uno dice eh aspetto il tuo basso magari ci possiamo mettere un basso tu già stai pensando di fare un qualcosa di caldo qualche percussione e alla fine la canzone nasce così ed è bellissimo diciamo che nel gergo tecnico ecco nel gergo tecnico per chi si sposta e sintonizzato in questo momento io e Fabrizio costruiamo lo scheletro che poi è il chitarra e voce e il testo e poi Stefano ecco ci cuce perfettamente un vestito sopra i muscoli e tutto quanto ci fa gli organi i muscoli e ci costruisce il corpo ecco esatto e nasce e nasce la canzone insomma Stefano state indietro qua noi stiamo scrivendo qua siamo favorifici devo recuperare devo recuperare va bene ok allora adesso finiamo questo caffè insieme e mi ci metto subito e adesso però devo anche ahimè chiudere in maniera super brutale perché ragazzi manca meno di un minuto il nostro regista ci sta dicendo inesorabilmente di richiudere e DJ Zoom DJ Zoom è cattivo DJ Zoom è cattivo allora va bene salutiamo subito giro puntina da Taranto ciao ragazzi ciao ciao ragazzi salutiamo anche Stefano ciao Stefano da Milano c'era anche questa volta mi raccomando adesso mi ci metto un abbraccio mi raccomando seguiteci vediamo la prossima puntata la prossima puntata io rinvito i nostri amici che si stanno seguendo di partecipare alla quarantena Song Challenge 2 trovate tutto quanto sul nostro Facebook e se no scriveteci noi vi rispondiamo vi diciamo tutto come fare dove trovare tutto e su YouTube trovatevi di giro puntina e su Spotify trovate la release della Sottotetto Records volume 1 e che altro dire alla prossima ci vediamo alla prossima ciao ciao Stefano ciao a tutti quanti Sottotetto caffè Sottotetto caffè Sottotetto caffè Sottotetto Sottotetto